Il cappellaio per indurla ad attaccare un agente è fallito in modo spettacolare. Ottimo lavoro. Sia Willow Jones che il direttore di Iron Hides sono dietro le sbarre, Sir. Ottimo. Sir, Nisa ha assunto il comando della Lega degli Assassini e ha lasciato Gotham. Un buon risultato, credo. Spero che sia valso il prezzo pagato. Signore, ho rilevato un segnale di emergenza proveniente da una nave da carico in difficoltà. Sto cercando di stabilire un contatto radio, ma ci sono troppe interferenze. Manda le coordinate. Indagherò. Prima distruggo l'auto... Il bersaglio alfa ha sfondato la corazza del Diamond Mac. Ti troverò e quando lo farò, sarai morto. Scusa ancora di fogna. Mi giuro di aver visto un poco d'inno a sotto. Ok, mi sto annoiando. Ammazziamolo adesso. Gobi! Non so come. So solo che deve essere ora. Ora? Sì, ora. Cosa sei, Giorgo? Ok, che avevi in mente? Penso alla svelta. E quanto? E avevo fosse solo uno quello svelto. Diciamo che ci sono vari livelli di sveltezza. Più continui a parlare, più vorrei ammazzare te. Entro mattina questo posto sarà una specie di riserva naturale e saremo noi la specie in pericolo. Ehi, tiriamo su queste barriere o no? Rilassati, qual è il problema? Ah, non saprei. Forse è quel tizio con mantello e orecchie. Carlo, da dietro le barriere. Signore, so che sarebbe azzardato ritenere Gotham un nuovo mite, ma addirittura gli iceberg? Non si tratta del tempo, Alfred. Ciò che temevo, oltre a combattere il freddo, faccio notare che sulla barca c'è un notevole spiegamento di miliziani. Ho l'impressione che avranno da ridire sulla sua presenza. Li persuaderò. Siamo di guardia, ragazzi. Cosa? Niente, signore. È che lei ha detto un sangue freddo. Ecco che il tiro si chiama, ciò. Vuoi rimanere parte di questo gruppo per attivo speciale, soldato? Feriresti presidiare una torretta come un fessero al cuore. No, signore. Allora chiudi quella bocca e questo vale per tutti. Silenzio e freddizia. Signore perso, potrebbe essere ovunque. Controllate il condotto. Affermativo. Recevo di nuovo il segnale. Ho preso il segnale. Qual è lo stato del drone? Sistemi attivati, operativo in tutti i settori. Se questo posto resta blindato, lo teniamo sotto. Si farà vivo. Pensi davvero. Per forza. Cambiamo l'unica cosa. Vieni. Segnale tornato. Segnale perso, potrebbe essere ovunque. Per dare un ordine devo scegliere una posizione. Controllate che il generatore sia... Un'arrivo. Recevo di nuovo il segnale. Segnale perso dall'azione. Recevo di nuovo il segnale. Controllate che il generatore sia... Ricevuto. Segnale tornato. Ho perso il segnale. Il cavaliere di Arkham non c'è più. Ora qui comando io. Oddio no. Mi serve un mezzo. È lassù. Inseguiamolo. È andato di qua. L'abbiamo perso. Controlliamo i feriti. Che cos'è? Di guarda questa parte. È nel pavimento. Un caperci. Dove diavolo è andato? Usa il fumo. Fumo a te. Qualcosa si muove sotto il pavimento. Non è niente. C'è qualcosa laggiù. Non è niente. Ehi. Cosa ti è successo? Levate di mezzo. Mi senti? Hai fatto schiapare il drone. Tutto ok? Credo sia stato attaccato da sotto. Vicino. È stato Batman. Tutto ok. Sì! Grazie a tutti. Devo rimanere nel raggio dei comandini, a distanza. Wow! Questa è andata, ne voglio un'altra! Ah! Qualcuno vede il vestaglio? Ah! 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 La nave è blindata. Devo trovare i comandi di sicurezza. Allora. Allora. No! Allora. 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 riuscire ad avere accesso alla nave in difficoltà. Proceda con cautela, sir. Gli occupanti forse non saranno felici di vederla. Corpi imprigionati nel ghiaccio. La nave è blindata. Devo trovare i comandi di sicurezza. È ora di entrare. Attenzione, criogeneratore instabile. Attenzione, criogeneratore instabile. Rianfiare un tuo segnaio. Errore, allumaria di sistema. Criogeneratore instabile. No! Ah, Nora. Victor. Volevano che mi unissi a loro per combatterti. Ho rifiutato. Così l'hanno presa. Hanno preso Nora. Ed è a causa tua. Morirà senza le mie cule. Ma me la restituiranno in cambio di Batman. Attenzione, criogeneratore instabile. Se ti fidi di loro, allora spara. Attenzione, criogeneratore instabile. Trovala Batman. Ti prego. Lo farò. Metti la nave sotto controllo. Il potere della creocamera non durerà a lungo. Devi portarla qui. Ho fiducia in te, Batman. Ti prego, salvala. Il potere della creocamera non durerà a lungo. Devi portarla qui. Alfred, ho un localizzatore che può condurmi da Nora. Sta trasmettendo una posizione. Faccio attenzione, signore. I miliziani saranno 14 in crini a tenere la prigioniera. Dammi retta e lascia stare le banche. Sono prenotate. Abitanti di Gotham, Poison Ivy si è alleata a combattere. Ed è monta per questo errore. Ecco la creocamera di Nora. Ora pensiamo alla milizia. È tutta la notte che cerco di fare fuori quel bastardo. C'è troppo calma. Rapporto! Nulla da riferire. Mi nulla, credo. E' andato di qua! Abbiamo aperto! Controlliamo i feriti! Non c'è niente da fare qui. Sbarcagliatevi e trovatelo! State tutti calmi, ricordatevi! Chi è? Di qua! Ho trovato qualcuno! È ferito! Non posso aiutarti! No! La vita di Nora è in pericolo. Devo esaminare la creocamera. Devo esaminare la creocamera. Qu 넣si la creocamera! Tilianti si對不起. ... Batman Cerca di non muoverti Per quanto un'altra vita? Sai quanto tempo è passato? Troppo Sembrava di sognare, ma... Riuscivo a sentire Victor, che mi parlava Allora sai cos'è diventato? Batman, dove è lei? L'hai trovata? È qui, Victor Si è svegliata? No! Devi riportarmela! Fammi parlare con lui Victor Nora Non avere paura Ti salverò Victor Al tuo ritorno ti congelerò di nuovo Ti prego Basta Errore di sistema Modifica respinta Io ti salverò, Nora Ci sono quasi Il prossimo ciclo di terapie Non capisci Non voglio essere salvata Victor Il generatore Ma... Stai morrendo, Nora Victor 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 Oddio, no! Esplosione nella baia Quel tipo trama qualcosa Mandate i droni Dobbiamo andare Ora Ti prego In fretta Certo Victor Mi ricevi Batman Rio generatore Salvabile Arrivando la milizia Devi andartela No Non l'abbandonerò Dobbiamo aiutarlo Sir, la nave di Frisa È sotto fuoco pesante Stanno arrivando i rinforzi skalpare Il rinforzano Certo Grazie a tutti. 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 Victor, puoi eliminarli tutti. Fai esplodere il generatore. No! Mi serve per Nora! Victor, va bene così. È ciò che voglio. Victor... Victor! Victor! Bianchicciamento drone! Twin Rattler off-line! Twin Rattler off-line! Drone colpito dal terzo agio alta! Victor, elimina li! Victor, ora! Victor! Drone con figlia! Il mio lavoro è un'attrezzatura, tutto distrutto. Non posso salvarti. Forse c'è un altro modo. Victor, questo non sei tu. non lascerò più che tu ti distrugga da solo. Victor, vorrei avertelo detto prima. Non voglio che tu muoia, Nora. Allora, lasciami vivere. Non abbiamo molto tempo. Giorni. Il tempo non è mai stato dalla nostra, Victor. Signore, la nave si è messa in rotta per lasciare Gotham. Continuo a seguirli. Che vadano, non li vedremo più. Victor e Nora si sono ritrovati. Speriamo che possano trascorrere i loro ultimi giorni in pace. Speriamo che possano trascorrere i loro ultimi giorni in pace.